Roberto, finalmente finite le feste, anche se il Foggio è tornato al lavoro abbastanza in fretta per preparare l'ultima di campionato, una partita che può essere anche importante per la classifica o per verificare lo stato di forma della squadra Sì, è una sosta abbastanza lunga perché sono tre settimane senza giocare però ci siamo sempre allenati, escludendo i primi sei giorni liberi poi dal 27 in poi abbiamo fatto sempre allenamento e devo dire che non hanno sbagliato un allenamento un atteggiamento, niente, stiamo anche bene fisicamente ma la partita di domenica è molto dura una squadra forte, quindi questo dobbiamo saperlo già Entriamo subito nel clima mercato perché quelle sono le notizie che in questi giorni volano Le squadre, le prime quattro squadre della classifica di questo campionato si stanno tutte rinforzando, soprattutto Casertana, Benevento e Lecce Il Foggio naturalmente sta facendo anche il suo, sono aggiunti due rinforzi importanti per la squadra e soprattutto anche dal punto di vista numerico per sostituire evidentemente chi potrebbe avere qualche problema o fisico o magari di squalifiche Sì, sono due giocatori che arrivano non per far numero due giocatori di prima fascia, di grande qualità, sia a Vacca sia a Chiricò e per noi ancora non è finito, dobbiamo mettere qualcosina dentro però adesso siamo in prossimità della gara, che mancano due giorni quindi lasciamo da parte un po' questo perché poi Di Bari sa quello che deve fare lo facciamo sempre in comune accordo, secondo anche le caratteristiche del giocatore che cerchiamo e del tipo di gioco che pratichiamo Preoccupa questa corsa a rinforzarsi di squadre che tutto sommato non erano neanche partite per giudicarsi il campionato, quindi proprio Casertana e Benevento in particolare sono squadre che stanno acquistando giocatori di peso e quindi delle concorrenti più agguerrite cambia questo campionato da gennaio in poi? Ma che non siano partite per vincere il campionato non lo so perché uno a chiacchiere con la voce può dire quello che vuole però poi sappiamo quello che è stata la spesa della Casertana, del Benevento e quello che stanno proponendo in termini economici ai giocatori che vogliono può determinare sì perché il campionato diventa più duro ma non è detto che più compri e più ti rinforzi noi dobbiamo stare attenti a non far venire meno quello che è l'aspetto principale e più importante della nostra squadra che è il fatto di far sentire tutti i protagonisti noi abbiamo una rosa che io me la tengo stretta non la cambierei con gli altri e mettere dentro i giocatori qua non è facile Vacca e Chiricò sono giocatori presi dopo aver visionato e monitorato tanti in quei ruoli però entrare qua non è facile Ecco l'equilibrio è chiaramente fondamentale in questi casi un occhio particolare è dato proprio a questo aspetto cioè questi elementi che comunque sono elementi di prima scelta come hai confermato tu stesso possono creare qualche scompiglio all'interno dello spogliatore? Io sono chiaro se ho un pregio, se ho una qualità è che sono chiaro e leale chiaro vuol dire che chi viene qua sa che in questo momento non parte titolare sa che parte alternativa perché io non vado a toccare niente oggi è chiaro che poi è il campo che dimostrerà se quello che è arrivato può giocare al posto di quello che è stato titolare fino adesso gli equilibri nello spogliatore nostro non si spaccano perché non lo concedo io, non lo permetto io ma non lo permette neanche il gruppo storico dentro lo spogliatoio e comunque di teste calde non ce n'è perché se tu sei chiaro e corretto è difficile che uno vada fuori le righe Ecco i due calciatori li abbiamo sentiti ieri sera alla presentazione sono entrambi entusiasti naturalmente di essere protetti da Foggia sicuramente più avvantaggiato Avacca che ormai è qui da quasi quattro mesi quindi è già entrato nei meccanismi della squadra ecco a proposito potrebbe essere già utilizzato domenica? Potrebbero essere già tutti e due utilizzati Chiricoa è un talento naturale, un giocatore forte, fortissimo potrebbero essere utilizzati dall'inizio come in partita in corso come la prossima gara con la Paganese o quella dopo ancora adesso la scelta diventa difficile ma bella perché non sono in difficoltà quando devo scegliere tra tanti giocatori devo essere bravo a sbagliare il meno possibile e a decidere secondo lo stato di forma secondo le caratteristiche della partita che si va a giocare secondo dello stato mentale, di tante cose però come peschi, peschi, peschi bene Ecco a proposito dell'estero della fantasia di Chiricoa che in pratica bissano un po' le qualità tecniche di Sarno entrambi però sono abituati a giocare sulla destra anche se Chiricoa ha giocato anche sulla sinistra potrebbero essere impiegati contemporaneamente nella stessa partita? Potrebbero essere impiegati tutti e tre compreso Floriano e magari compreso Iemmello quindi adesso non è detto che l'anno scorso in casa con Lecce quando vinciamo 2-0 giocarono tre attaccanti più Mazza non c'è problema se c'è disponibilità totale degli attaccanti se il portiere è il primo che è predisposto a giocare a giocare la palla quindi a essere propositivo e l'attaccante, il centroavanti è il primo a fare un sacrificio per riconquistare la palla quando si perde allora non c'è problema di equilibri, di moduli, di numeri, di niente Manca il centrale difensivo alternativa eventuale all'Oiaco non è un difensore centrale destro in pratica la presenza di Vacca adesso, la disponibilità di Vacca potrebbe costringerti tra virgolette in qualche modo ad arretrare Coletti nel reparto difensivo? L'Oiaco da quando è entrato titolare ha fatto un campionato strepitoso Coletti è altrettanto stato determinante per gli equilibri, per il gioco è migliorato molto anche in fase di palleggio e in alcuni concetti che in altre squadre non aveva trovato non erano stati richiesti oggi no, oggi non vado a toccare questo equilibrio oltretutto io non cerco di non inventarmi niente se un giocatore gioca a centro campo è perché durante la settimana si allena a centro campo e quindi Coletti il giorno in cui decido di portarlo in pianta stabile dietro vorrà dire che tutti i giorni si allenerà da difensore purtroppo io non sono dell'avviso che ci si possa inventare da un giorno all'altro sistemi di gioco e opposizione in campo le cose vanno provate, riprovate vissute con continuità e per arrivare a un'abitudine buona Domenica c'è questa ultima partita di campionato dicevamo già all'inizio importante perché può dare una lettura importante per come sta il Foggia in questo momento a proposito di infermeria questa tegola non ci voleva Mazza che rientrerà praticamente quasi a metà febbraio e invece Viola che potrebbe addirittura operarsi già a partire dalla prossima settimana Sì Mazza forse anche prima Viola invece dobbiamo vedere dopo l'operazione ad agosto comunque non è mai stato al 100% motivo per il quale non è partito titolare spesso perché nella mia testa Alessio Viola è un titolare quindi avrebbe fatto molte partite dall'inizio e adesso vediamo per adesso è disponibile viene con noi Domenica e poi si farà il punto della situazione dopo la partita con la Juve Stabia per capire un attimo quale sia la soluzione migliore per lui per noi, per tutti perché in questo momento davanti siamo non contati però bisogna tenere fare delle scelte giuste non per forza da una parte non per forza dall'altra però giuste questo significa che potrebbe esserci anche un intervento sul mercato a proposito proprio delle punte vediamo ti ho detto prima che preferisco parlare della Juve Stabia vediamo a Martina ha giocato Riverola punta esterna e l'ha fatto bene fin quando è stato in grado dal punto di vista fisico di poterlo svolgere a Bari in Coppa Italia abbiamo vinto facendo giocare Mazza a centroavanti Sarno può fare il centroavanti se continua ad avere essere cinico davanti al portiere può farlo tranquillamente non è il giocatore più o meno che è esposto il difendore centrale comunque dovrà arrivare ti faccio un nome mi devi dire solo se ti piace o no anche se il direttore sportivo ha detto che è vero tutte le soluzioni possono essere possibili anche se trova difficile questa soluzione il capitano del Benevento Lucioni poi sono tutti Lanzaro, Lucioni tutti giocatori forti ma non stiamo su questi giocatori siamo su altri probabilmente riescono non so come però non c'entrano niente ad oggi con quello che vogliamo e comunque oggi non mi interessa oggi mi interessa Juve Stabia e basta Foggia-Juve Stabia si torna in campo dopo queste tre settimane in pratica di vacanze tra virgolette vacanze lavorative per il Foggia che si è allenato comunque con Costanza che squadra ti aspetti di vedere in campo contro la Juve Stabia? una squadra come Martina con la voglia di vincere perché quella fa la differenza tante volte anzi spesso anche perché la Juve Stabia rientrerà la Juve Stabia rientreranno dei giocatori importanti che non ci sono stati in tutto il giorno d'andata si sta rinforzando anche essa sul mercato e quindi sulla carta troviamo una diretta concorrente anche se la classifica in questo momento dice di no però sul campo si presenteranno agguerriti con giocatori di qualità ecco sarà una gara difficile ma il Foggia chiaramente con il coltello tra i denti come piace a te dovrà scendere in campo determinato proprio per cercare i tre punti l'hai detto la voglia di vincere tutti i costi come quella dimostrata a Martina ecco che difficoltà dal punto di vista tecnico puoi trovare perché c'era mancanza di qualche calciatore di cui abbiamo parlato poco fa infortunato ecco che squadra intendi mettere in campo una squadra propositiva sempre che faccia la partita dal primo al 95esimo una squadra attenta alle ripartenze quindi quando la palla è in avanti bisogna dare un occhio ai riferimenti avversari quindi mettersi subito pronti a un'eventuale perdita della palla e con lo spirito di di determinare quindi si può sbagliare una, due volte tre volte però la convinzione la personalità è la voglia di 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 osare Foggio ha lasciato in pratica il campionato prima di Natale con un filotto di cinque partite positive direi quali quattro vittorie ecco pensi che si possa ripartire da quel momento? a me sì bisogna ripartire dall'entusiasmo di di Martina tenendo ben presente la fotografia del dopo Benevento quando c'era un po' di malumore quando c'era un po' di contestazione quando c'era musilunghi quando c'erano quando c'era un momento negativo ecco questo dobbiamo tenercelo ben presente come cambia la vita andar bene e come si sta male quando poi le cose non vanno per il verso giusto Ci possiamo aspettare qualche novità in formazione? Vediamo l'ho detto prima la squadra è talmente forte che se prendi uno o l'altro cambia poco cambiano le caratteristiche caratteristiche dei miei giocatori non sono tutte uguali e in base l'ho detto prima al tipo di partita che penso si andrà a giocare e anche le caratteristiche degli avversari possiamo possiamo scegliere di volta in volta Hai chiesto l'intervento del grande pubblico la risposta è ancora un po' tiepedina ma si sa qui forse tutti sono obbligati a farsi il biglietto all'ultimo momento ecco vuoi invitare i tifosi a stare più vicini nella squadra No io dico sempre che meglio pochi ma buoni quindi se vogliono venire a riempire lo stadio che poi io ho detto che mi aspettavo di più ma 8.500 9.000 non le fanno neanche in serie B quindi qualcuno magari neanche in serie A quindi so benissimo che sono numeri importanti so anche che Foggia può calcistica può dar di più però mi tengo stretti quelli che quelli che c'erano l'anno scorso quelli che sono venuti quest'anno quindi è importante che quelli che vengano abbiano la voce giusta anche perché insomma c'è da vincere una scommessa con il sindaco no? Sì però il sindaco penso che sia contento a perderla questa scommessa in bocca al lupo grazie